Siamo in un altro stand, siamo qui con Francesca che propone invece bomboniere di che tipo? Allora, bomboniere di ogni genere, di parecchie marche, bomboniere solidali come l'acquare matto, l'acquadrifoglio che si rivolgono ai bambini per i ricoverati negli ospedali italiani, quelli dell'acquare matto invece per i bambini del terzo mondo. Le confezioni sono tutte create con il cliente, non facciamo confezioni regionali, studiate apposta per i nostri clienti, con i nostri clienti. Sono bellissime, tutte diverse, che cosa si usa adesso per le bomboniere? Magari qualcosa di utile? Spesso richiedono bomboniere utili, come le nostre aziende propongono bomboniere utili, vanno molto di moda e sono molto carine le bomboniere in plexiglass, le scatoline, che si possono trovare divise a scomparti oppure a cubotti per poi decorarle con i nostri prodotti alimentari, dai confetti a tutte le decorazioni di zuccheri particolari. Bene, grazie mille. Grazie mille a voi. Grazie mille a voi.